28, 27, 26, 25, 24, 23. Non è un conto alla rovescia, sono i punti in classifica delle prime otto squadre della promozione B, dal Baiardo all'Atletic. Difficile immaginare un campionato più equilibrato ed entusiasmante. La sfida di oggi è fra il Camogli in maglia bianca, terzo in campionato e il Baiardo, completo nero-verde capolista a più due sul Camogli, che può quindi tentare il sorpasso. Pronti via e Venturelli entra in area da sinistra, si porta sul fondo e scalda i guantoni di un attento Belloro. La risposta del Baiardo è però ben più incisiva, gran giocata di Merialdo che evita Tommasi e calcia dal limite cogliendo la base del palo. Il match non decolla fino al ventunesimo quando la capolista cambia marcia. Prima Rattini crossa sul secondo palo dove Lombardo non arriva per un soffio in scivolata, ma un minuto più tardi lo stesso Rattini si mette in proprio e dai 25 metri vede Salomone leggermente fuori dai pali e lo sorprende con un gran destro che si infila sotto la traversa. Bellissimo gesto tecnico del classe 85 che manda il nero-verde in vantaggio e tocca quota 6 gol in campionato. Camogli ci mette un po' per reagire, ma il 35esimo va vicino al pari con la botta di Venturelli su calcio piazzato che ha l'unico difetto di essere troppo centrale, consentendo a Belloro di cavarsela con un intervento comunque non facile. È l'ultima occasione di un primo tempo molto tattico e bloccato, deciso solo dalla superba giocata di un singolo. All'inizio della ripresa, filmata e montata da Luigi Pittatore, il Baillardo spegne sul nascere le ambizioni di rimonta del Camogli. 52esimo. Rattini, direttamente da calcio d'angolo, costringe Salomone alla respinta. La palla si impenne e la traversa ferma la rovesciata di Merialdo, ma nessuno può fermare Simonetta, che di testa firma il 2-0, che gli vale il primo gol stagionale. Il Camogli è ferito, ma non KO. Venturelli, direttamente dalla banderina, prova a sorprendere Belloro che riesce a deviare sopra la traversa. Ma per togliere ogni dubbio sull'esito del match, 71esimo minuto, Merialdo per Gianluca Poggi, sta affilata dai 25 metri e palla nell'angolo. Imparabile per Salomone. Un gol fantastico che contende a Rattini la palma di rete più bella del match. Anche per Poggi è il primo centro stagionale. La reazione del Camogli non è sufficiente a far male al Baillardo. Al 77esimo Venturelli entra in aria e va giù dopo lo scontro con Richter. Per l'arbitro Zunino di Savona è simulazione e il numero 10 viene ammonito. All'84esimo arriva perlomeno il meritato gol della bandiera per i ragazzi di Manfredi. Sulla punizione di Pozzolo, stacco imperioso di De Stefani, manda la sfera nell'angolino, rendendo meno amara la sconfitta. È il primo gol in stagione per il difensore Capitano che due minuti più tardi macchia però la propria prestazione rifilando una gomitata a Merialdo, che gli costa il cartellino rosso che però non spegne le speranze del Camogli, che al novantesimo ha ancora una clamorosa occasione per riaprirla. Sul traversone di Brunelli Venturelli si gira e conclude trovando la mano di Lombardo. Poi Tommasi si divora al possibile 2-3, scattano le proteste del Camogli che invoca il calcio di rigore. In effetti il tocco di mano, che è netto, ha deviato un tiro diretto verso la porta, ma va detto che Lombardo era molto vicino a Venturelli. Allo studio spetta l'ardua sentenza. Poco cambia comunque. Al termine dei tre minuti di recupero il Baialdo può festeggiare la meritata vittoria e il consolidamento del primato. Con questa prova di forza il Baialdo vince su un campo difficile dove tante grandi quest'anno avevano già perso e quindi chiude il 2014 in testa alla classifica. Grazie a tutti.